Allora, buongiorno, vi abbiamo voluto ricevere stamattina per esprimere alcune considerazioni. La città è profondamente colpita dal lutto di Ciro, lo sono anche io personalmente, una vicenda triste e drammatica e anche il ricordo dell'incontro che ho avuto con lui da questa mattina all'alba è perenne nella mia mente. Ieri sera abbiamo avuto un lungo incontro di giunta, Napoli proclama il lutto cittadino che ci sarà il giorno dei funerali. La città si stringe attorno ai familiari, darà l'ultimo saluto a Ciro nella sua Napoli. Un abbraccio forte e particolare alla madre Antonella e alla fidanzata Simona, simbolo delle donne di Napoli, che hanno affrontato con una grande dignità giornate difficili e complicate. Oggi, a nome mio personale e di tutta l'amministrazione della giunta, vogliamo sottolineare che questa giornata di lutto nazionale non è solo ovviamente per Ciro, per i familiari e per tutto il popolo di Napoli, ma anche per dire un no forte alla violenza. Basta il binomio sport-violenza-calcio-violenza, ma anche nel dire da un lato no alla vendetta e quindi no alla violenza, ma anche un sì forte alla giustizia. Quindi chiediamo alla magistratura romana di ricostruire nel dettaglio quella giornata drammatica e chiediamo al Governo rapidamente di accertare le responsabilità, qualora esistenti, su un'ordine pubblico che è apparso sin dall'inizio e nelle ore successive è sempre più evidente, assolutamente carente. E se ci sono responsabilità, come appare evidente per quella giornata, per come si è svolto, chi sbaglia paga. Quindi no alla violenza, no alla vendetta, sì alla giustizia. Questo è il modo migliore per ricordare Ciro, dare sostegno alla sua famiglia e risarcire moralmente la città di Napoli che si sente tutta ferita da una vicenda drammatica per cui anche qualcuno ha voluto far passare Napoli nelle prime ore e anche nei giorni successivi sul banco degli imputati. Noi ovviamente siamo vicini alla famiglia e mettiamo in campo tutte le iniziative necessarie per poter dare la città tutta il saluto a Ciro, ragazzo della nostra città, di un quartiere importante della nostra città. Oggi vediamo nel ricordo non solo dei familiari, ma anche, ho letto poco anzi, ricordo della sua preside, insomma tutte persone che noi conosciamo e che evidenziano di come sia stato opportuno far prevalere il lato umano rispetto ai consigli istituzionali di chi invitava il sindaco a non andare a trovare Ciro quando si trovava in ospedale. Questa vicenda ha dimostrato che Napoli, prima ancora di avere una dignità istituzionale, ha una dignità umana e io sono contento che Napoli tutta, al di là delle vicende giudiziarie, si sia schierata per Ciro sin dal primo momento. Noi abbiamo chiesto giustizia sin dal primo momento, la magistratura sta facendo le sue indagini e come ho detto poco anzi ci auguriamo che le faccia nella maniera più approfondita possibile. Poi sin dalle prime ore io ho evidenziato le evidenti lacune nell'ordine pubblico, ho chiesto al governo di accertare le responsabilità, l'ho detto anche adesso, si devono accertare le responsabilità e chi ha sbagliato deve pagare. Il mio giudizio è stato molto chiaro, io sono stato anche testimone in quei giorni, sono passato in quelle strade e mi pare assolutamente evidente che le cose non sono funzionate, quindi è ora che il governo accerti, il tempo è passato anche molto, le responsabilità. Napoli si è sempre schierata dalla parte dei suoi cittadini, da quando io sono sindaco, in tutti i processi in cui Napoli è stata danneggiata e in questa vicenda Napoli è stata profondamente lesa, il Comune si è costruito parte civile. Io vorrei ricordare che con la morte di Ciro oggi è una ferita per tutta la città, è come se fosse morta la città nei sentimenti e nello stesso tempo ho trovato vergognoso come nei giorni successivi si è cercato con operazioni politiche e mediatiche di mettere Napoli sul banco degli imputati. Quindi oggi tutta Napoli, a cominciare dai familiari di Ciro, esprime un concetto molto chiaro, non alla violenza, che è il modo migliore per ricordare Ciro, e aggiungiamo tutti come hanno fatto i familiari, non alla violenza, sì alla giustizia. Questo è il modo che una città civile deve fare, il modo migliore per reagire di fronte a una tragedia di questo tipo. Noi ci siamo anche sentiti ieri, ci siamo sentiti nel passato, io sono andato, adesso è il momento che i familiari vivano queste ore come ritengono e soprattutto uniti tra di loro. Io sono un po' discreto in queste cose, ritengo che bisogna lasciare vivere in questi momenti complicati i familiari nella loro vicinanza e solitudine ai propri affetti. Ma le indagini, ovviamente noi non possiamo commentare indagini in corso, le indagini fa la magistratura. Io come sindaco di Napoli ho il diritto dovere di chiedere che queste indagini, come sono certo che avverrà, vengano espletate nel modo più approfondito possibile e poi come sindaco di Napoli ho il diritto dovere di chiedere al governo, al di là dell'indaggio giudiziare, di accertare lacune che mi sembrano assolutamente evidenti sull'ordine pubblico di quella giornata. Io ho sentito dire nelle ore immediatamente successive, sostenere che era andato tutto bene. Dire che era andato tutto bene quando una persona viene sparata in petto e poi muore è un'offesa, credo, complessiva al buonsenso prima ancora, che ha la dignità di una famiglia, di una persona e di una città. No, ieri ho ricevuto una telefonata di Ignazio Marino che mi aveva detto che voleva andare a trovare il ragazzo, punto. Io trovo profondamente inaccettabile quello che sta accadendo. Cioè che una persona è andata allo stadio per festeggiare, come siamo andati in tanti, poi muore perché viene sparato, è una cosa onestamente che veramente ha superato ogni limite, quindi l'analisi su che cosa bisogna fare la farei nei prossimi giorni. Adesso invece meditiamo tutti su quello che è accaduto, sulla tragedia, sulla vicinanza a una famiglia e nella richiesta di giustizia, perché ripeto, è vero che la magistratura ha bisogno di tempi e in questo caso i tempi sono giusti perché non ci dobbiamo limitare al fatto di aver individuato chi ha sparato. La vicenda mi sembra un po' più complessa. Io andrei fino in fondo, insomma, secondo me la vicenda va analizzata e va investigata. Invece è passato molto tempo dal fatto che non sappiamo se l'ordine pubblico, secondo il governo, sia stato corretto o meno. Cioè io vorrei che oggi il governo si esprimesse su questo punto, perché a distanza di 53 giorni questo è un silenzio che sta diventando un po' assordante per la città di Napoli. Quindi questo mi sembra il tema da sottolineare oggi. Lo voglio fare da sindaco, credo di interpretare il sentimento dei napoletani e anche dell'intera giunta che ieri su questo è stato unanime nel chiedere al governo di dirci in tempo reale, cioè non fra tre mesi. La magistratura forse avrà bisogno di tre mesi, forse anche di sei mesi ed è bene che si prenda tutto il tempo necessario per capire fino in fondo chi ha sparato, perché è accaduto quello, che contesti ci sono, insomma, come sono andate le cose, quanta gente responsabile, se ci sono stati ritardi nei soccorsi, perché ci sono stati ritardi, chi ha chiamato e chi non ha chiamato, invece 53 giorni mi sembrano un po' tanti per dire al paese, alla città di Napoli, a Ciro e alla famiglia se qualcuno ha sbagliato nell'organizzare l'ordine pubblico.